Classifica Fimi, Ernia primeggia negli album e, domina, la top 20 dei singoli. Ferro cala al quarto posto, Guccini debutta secondo, Mina che canta i Beatles e non a Ernia Instagram la classifica Fimi relativa alla settimana dal 18 al 24 novembre 2022 minuti con Sacra, Ernia. Il rapper milanese, al secolo Matteo Professione, è infatti al primo posto degli album con Io non ho paura, ma ha numerosi brani anche nella top 20 dei singoli. Ecco tutte le posizioni. Classifica Fimi i singoli al primo posto, ancora una volta, si è riconfermata Quevedo, BRZP Music Sessions, Ball. 52, seguita da Take 4 di Shiva, più 2. Dal terzo posto comincia il dominio di Ernia, che si trova lì con Buonanotte. Il rapper è inoltre quarto con Acqua Tonica, con Jolie e Junior K, quinto con Bella Pregatura, undicesimo con Qualcosa che Manca, con Erre Comi, sedicesimo con Tutti Hanno Paura, con Marco Mengoni, diciassettesimo con V.